Ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovissimo video e oggi come vedete sono con il buon EnderNiko e questa è la mia sistemazione per la vita Cioè la barbone challenge si fonda sul fatto di essere un barbone e quindi io ho deciso di vivere in un glitch subacqueo Questa era una struttura che in teoria doveva stare fuori, vabbè si è glitchato il mondo Comunque non è di questo che dobbiamo parlare oggi Lo vuoi solo per questo? Aspettate vi devo far vedere che io ce l'ho più grosso di tutti Peccato È bellissimo Vi dico un paio di cose che ho fatto allora primo ho fatto questo cosa qua Questo cosa qua non mi ricordo come si chiama ma ve lo dico Si chiama grindstone, la grindstone ci serve per smarmellare i fiori perché altrimenti non potete smarmellarli Altra cosa che ho fatto è questa Questa è un hammer crafting table e si fa così e serve per fare appunto i martelli come questo qua Allora quello che voglio fare oggi è questo baracchino qua Questo baracchino qua è quella che troviamo nei villaggi per spostarci E io voglio farla tantissimo perché mi piace Per farla mi serviva lo smarmellatore di fiori perché mi serviva il purple dye E 4 enderpearl, porca troia Comunque adesso ho le enderpearl, ho tutto, bisognava uccidere 10 enderman per fare questa cosa Ma la posso fare Quindi questa e finalmente si può fare una waystone La waystone la poseremo da qualche parte che ci serve come casa mia Tipo questa Quindi la posso piazzare Scrivere Caa Zaa Fatto E ora è Ora cliccando qua Posso andare anche da varie parti Sprecando livelli Cosa che non posso permettermi Allora Nico Dovemo andare in paradiso o all'inferno? Beh allora Contando che stamattina stavo registrando io Sono morto 15 volte Penso che il paradiso sia un po' più Servono tanti blocchi però Mi son guardato il tuo video dove andavate in paradiso E Servono un po' di blocchi per spostarsi Guardate E' orribile Ma perché? Prima Lei Addio Ok Non so se ti è arrivato il paracadute Se lo devo prendere Quale paracadute? Ah ok No Aspetta ho un libro della lore O di lore No no Ma noi siamo vari Guarda qua c'è una mucca alata Dove? Salve mucca alata Ma l'ha one shot con sto colpo? Sì Ma quella è una balena volante Eccolo il cefalodonte Ma io ne voglio una casa mia È bellissima Aia Qualcuno mi ha tirato qualcosa Cos'è? C'è un baffo gigante Cosa? Oddio Ma tira le palle di neve Ma tira le palle Sei bellissimo Cos'è sto cosa? No ma c'avevo una No ma è mo Lo hai shottato Che cosa brutta Jack Guardi sopra di lei Un po' più a sinistra dietro C'è un albero in faccia Vieni qua Ma è bellissimo ci voglio andare Ma C'hai un tornando vicino? Sì È bellissimo Cosa accade? No guarda Ma mi scusi Bellissimo ma stai volando Lo voglio È una palla C'è un cefalo anche qui Coniglio vieni qua Coniglio Coniglio Come faccio? Lo devo Lo devo avere Shift a sto destro Io l'ho menato Non lo so Io l'ho menato Però Coniglio se ne vada No Non va Non va così Non va così Venga Venga un coniglio a vita in destra Ho capito Ah no Fa nero Devo dargli qualcosa Eccolo Ok ci sono Ok Belli sti blocchi Bellissimi Martellone Cosa suona? Non si possono rompere No Cattiveria No tool Zeus del cazzo Non è che è dentro Io sto entrando No qui non si può rompere la fortezza Mannaggia allora Aspetta qua c'è già una cassa Ah Ah Ci sono i mimic Ci sono i mimic Cosa è un mimic? È una cesta Però non passa da due blocchi Quindi non è tanto difficile da battere Questa è una cesta vera Questa è una cesta Cos'è? Skyroot poison Ascending door Ok Poison dardo Vabbè dardo di Vabbè le torce me le piglio perché sono fighe Posso prenderlo io lo skyroot poison Prendi tu Prendi tu Io sono curioso di che C'è anche un disco Chi è sta tipa qua? Quale tipa? C'è una tipa qui What's that you want to fight? Ah Ma che cazzo Ma siamo matti qua Muori Ah Ah No Ho sbagliato Tass Fa male Fa male Fa male Fa male Fa male No 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 Questa è la catana Altro che paradiso Ma sono un botto Ma sono un bottissimo Ah Ah no 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 Vai via Vai via Vai via Non sono stato un bravo ragazzo Ok una l'ho segata E mi ha dato All right All right You win Victory medal Cosa cazzo? C'è stata una medaglia? Sì Non sembrano esserci altre entrate E quindi Io prendo questo Questo che roba è? Non sembrano esserci altre entrate Proviamo a vedere sotto Cos'hai visto? No Sono io che sto Aiuto Che problemi hai? Cosa stai facendo? Non hai il paracadute? No Però non casco Cioè rimango qua Vabbè Passo dall'altra parte Ciao Ok io scendo Il paracadute va Mico? Ottimo Ma questo scava un botto Il martello? Sì Vieni a vedere quanto scava No Che cosa bella Vieni a vedere Oddio Aspetta 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 Vieni qui Non so se è una buona idea Ciao mamma Sta volando Ora sei buono Ok sono sopra Sono sopra Servono dieci pezzi Per la questa Sì E noi siamo stronzi E noi siamo stronzi Perché da lì A lì Era molto più rapido Questo è un albero bellissimo Lo voglio tantissimo Allora dammi 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 Lascia Ne voglio quattro C'ha degli alberi fighi Sto posto Poi E basta Sì esatto Ottimo ottimo Allora passiamo al piano B Esatto Scavi sotto Col martello Vai Se magari c'è un buco del mezzo Diciamo che è passato Un bel becigato No aspetta No aspetta 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 C'è roba Ho trovato roba Ho trovato roba Sì Ma serio E questo Non si può rompere Però Guarda Cos'è Ah non lo so Però non si può rompere Dentro del fuoco Ascolta Mi sono già rotto il cazzo Martello Eccolo Eccolo Ho trovato l'apertura Sì c'era C'era proprio il buco Ah ok Bene E dentro Dentro c'è un boss Dentro c'è un boss Ragioniamo in maniera intelligente Esatto Allora Tipo Ci teniamo tutto qua E se moriamo Raccattiamolo dopo Vabbè Noi facciamo un tentativo Se perdiamo La nostra roba è persa per sempre No Forse Prondo Vai Andiamo Salve Non ci vede però Se arriviamo fin qui Ma è stupido Ma è un boss Non è che è una statua messa qui Non si mena Guarda che è girato al contrario E Non riesci a menarlo No Ma faccio anche stupido Non lo so Io provo a togliergli Le fiamme No No You are certainly a brave soul Have entered this chamber Mi sa che lui è tipo dio E se noi lo uccidiamo Ripperoni Allcraft Ok Non lo so Come ti posso menare Mi scusi Non so Andiamo a fare qualcos'altro Ok Ciao Pippa Io Solo perché l'ho chiamato così Non perché Qua nulla Vedo balene e montagne Io vedo un buco È un daggio Penso di sì Vai Ok ok Questo posto non è così inutile come pensavamo Cosa c'è Niente L'ha già visto qualcuno Ottimo No Come l'ha già visto qualcuno Mi sembra strano C'è un dodo schifoso di là Adesso lo accoppiamo L'ammazzino di botte No no Facciamo una strada sola Scusa Ma Che minchia Dobbiamo fare Esatto Facciamo due per l'anima del Esatto Allora Vai Oh cos'è successo Sei cascato di sotto Ti vedo Ciao Ciao amico Ciao Là c'è un altro acropoli Ci sono gli stessi loot di prima Beh Gli stessi loot di prima Non sono male Comunque Non per dire È un'ora e dieci che registriamo Non zio è vero Vabbè ci stiamo divertendo Te sei un rotto in culo Bene Muoi Che merda Esatto C'è Vabbè Oh C'è un posto segreto Ok Prima Perché non l'abbiamo visto Allora Lei Sono abbastanza Certo che è un boss Di qualche genere Provo a parlare con la signorina E le tiriamo due vangate in testa Aspetta Oh ha aperto un menù diverso Cosa? La regina delle queen È la valchiria regina questa Ok ottimo Intanto la ingabbio E la seguo Ah no aspetta Parla Aspetta Joint Fruit La valchiria What can I tell me About this place Wish to fight you Never mind What can you tell me This is a sanctuary For us valkyries Who seek rest Wish to fight you Fight è battaglia Aspetta Very well then Bring me Ten Medals For my support Ah ecco cosa servono le medaglie Vedi io ci parlo con Death Watch E poi gli tiri un martello in faccia Bella però sta cosa di lore A me piace un sacco Ok io ne ho dieci Sì sì è interessante Vediamo un po' questa regina I wish to fight you I'm ready Orca Ne ha di vita Bella Eh bravissimo Ah che botta Ah che botta Perché ho preso Sei uno dei primi boss Ma perché prendo delle botte a cazzo Ma prendo delle botte a distanza Ma No sta attaccando Oddio Sto mettendo dei fulmini Ah ok ok No ma io sto continuando a prendere danno Gli ultimi colpi Sono tutti i tuoi Bam Segata Vediamo Aspetta aspetta Voglio vedere cosa mi ha droppato Challenge complete Allora mi ha droppato Silver key Che non so cosa sia E una spada d'oruma La silver key Ok Non serve a niente Una silver key Eh apre qualche stanza in teoria Ma non so bene Devevo informarci Jack Oh c'è un posto Dove Guarda guarda Aspetta Cos'è quello È una chest È la che Eh La silver key va qui forse Probabile Prova Pronto Oddio Bam Io C'ho paura Oh Holy sword Valkyrie helmet Valkyrie pickaxe Vabbè Neptun Neptun gloves Aspetta che Bella Wow Allora Vabbè ottimo Vai 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 Vabbè Vieni qua Vieni qua sopra Sul Aspetta che magari Lo Lo sistemo Un po' Lo schifo Questo È un attimo Mi scusi Ecco così Forse Forse è un po' Di andernico Che semmai facciamo un episodio Con lui Andate anche In quello di panic Se ne abbiamo fatto uno Ma è tipo il 25esimo episodio Quindi lo vedrete tra un po' Comunque ragazzi Da noi ad andernico È tutto Mi raccomando passate dal suo canale Che è in descrizione Ci vediamo ad un prossimo episodio Di qualcosa signor Nico Che 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 lei è un po' È un po' Dica qualcosa di bello carico Allora Qualcosa di bello carico Allora Questa valchiria È stata Bella complicata No Tipo batteria Batteria Allora dico Viva il pane Brae Brae